Musica Abbiamo dato seguito a quello che è il protocollo ANCI che invita, impone anzi ai comuni di dotarsi di alcuni dispositivi per la sicurezza sia dei nostri operatori, quindi della Polizia Locale e anche all'interno di tutte le strutture del Comune, ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini. Attraverso questi dispositivi i nostri operatori potranno anche lavorare su strada con più tranquillità. Il Ministro della Salute ha emanato alcune direttive specifiche che, come diceva il Sindaco, sono state recepite dall'ANCI. Noi stiamo facendo questo tipo di attività di controllo. Chiunque entrerà in comando sarà scannerizzato con un termoscanner e cercheremo di verificare la temperatura. La temperatura, se è superiore a 37,5, l'utente sarà generalizzato e sarà informato il suo medico curante. Non solo gli utenti, ma anche tutti i dipendenti della Polizia Locale ogni mattina saranno sottoposti a verifica, ad ogni inizio turno, verifica della temperatura. Oltre al termoscanner abbiamo adottato altri sistemi di protezione dp individuali per gli agenti di Polizia Locale, tra cui ci sono queste mascherine che coprono il viso da eventuali schizzi di saliva. Tutti i giorni il nostro personale, il personale di comune, viene dotato di mascherine per la protezione individuale, oltre che di gel e di guanti.